La stagione autunnale non si è smentita e un ottobre in piena regola fatto da cornice in Valle Maira la gran castagnata Fiera di Valle di Roccabruna. La manifestazione si è aperta il giovedì sera con l'interessante convegno sul recupero delle borgate alpine organizzato presso la sala polivalente della Confartigianato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Roccabruna e con l'UNCE. Una serata importante e interessante per fare il punto del recupero delle borgate alpine, il recupero con efficienza energetica. È un modello che funziona, che ha funzionato e che speriamo anche di prorogare, di riproporre con i prossimi finanziamenti europei legandoli però a un insediamento abitativo, residenziale e lavorativo perché dobbiamo creare le condizioni per far tornare famiglie a vivere e a lavorare sulle nostre montagne. Oggi è stato di nuovo un passo importante sulla strada che la Confartigianato di Cuneo sta percorrendo per organizzare l'economia montagna. Il dibattito è stato molto interessante. Io credo che su questa strada dovremo molto presto ritrovarci per fare anche un bilancio del lavoro che abbiamo fatto in questi anni, come ha detto l'assessore Malmaggia, e per riprogrammare il lavoro futuro sulla base del principio imprescindibile di valorizzazione delle risorse del nostro territorio e delle capacità produttive del nostro sistema di imprese. La chermesse è proseguita venerdì con la serata dedicata ai giovani, mentre il sabato pomeriggio ha visto protagoniste le aperture del coloratissimo Banco di Beneficenza e della Fiera di Valle, giunta ormai alla dodicesima edizione, che costituisce sempre una preziosa opportunità per tutti i visitatori di conoscere una grande varietà di prodotti dell'eccellenza artigiana e di apprezzare il sapore di quei saperi che si tramandano di generazione in generazione e giungono a noi ogni volta maggiormente impreziositi. La manifestazione è poi culminata nella giornata di domenica, che ha visto un alternarsi ed un susseguirsi delle più svariate e attrattive. Fiera di Valle 2014, abbiamo tantissime aziende artigiane presenti, rappresentano tutta la nostra valle, il territorio, rappresentano anche Valle Grana, qualche azienda proviene dalla pianura, comunque un grande successo perché non abbiamo mai avuto tanti espositori così, rappresentano tutti i settori merceologici. Nell'ambito del premio fedeltà associativa della zona di Borgo San Dalmazzo, durante il quale è stato conferito un riconoscimento alle imprese associate da oltre 35 anni alla confartigianato, si è anche svolta la cerimonia di intitolazione della Sala Riunioni degli Uffici di Zona, alla memoria del mai dimenticato Fernando Franchino, per anni attivo dirigente dell'associazione, prematuramente scomparso ad inizio 2014. È un momento veramente, effettivamente, molto molto bello. Io sono ancora emozionato aver intitolato questa Sala a Franchino, a Nando, è qualcosa che ci riempie noi artigiani veramente di grande orgoglio. Come ci riempie di orgoglio aver potuto premiare i nostri artigiani che hanno 35 anni di fedeltà associativa. Aver sentito in questa Sala un popolo, permettete, un popolo artigiano pulsante, beh, è qualcosa di veramente forte. Andiamo avanti così. Confartigianato ha effettuato anche un consuntivo sull'ormai conclusa Fiera del Marrone, che anche quest'anno, a Cuneo, ha registrato un enorme successo di pubblico e ottimi riscontri da parte delle imprese espositrici presenti. C'è un momento di visibilità importante sulla città di Cuneo, sulla provincia, la Fiera del Marrone è diventata una delle fiere protagoniste, dove le nostre aziende hanno la possibilità di mettere in campo tutta la loro capacità di avere dei prodotti di eccellenza ed è sicuramente una vetrina importante per la nostra economia. Quindi un grazie all'amministrazione comunale con la quale organizziamo questo importante evento che sicuramente dà visibilità al nostro territorio. Il bilancio è positivo sotto tutti i punti di vista perché anche camminando attraverso gli stand e parlando con gli espositori, anche gli espositori sono stati contenti dell'affluenza di pubblico, è positivo sia per il tempo sia per tutte le persone che sono anche arrivate da fuori. Quindi un rilancio non soltanto economico ma anche un rilancio turistico del nostro territorio e della nostra città. Attraverso i prodotti che abbiamo esposti diamo la possibilità a tutto un territorio vasto, variegato e assolutamente bello di poter essere conosciuto. Sono alquanto soddisfatta per la gente e soprattutto perché ho potuto per la prima volta nella provincia di Cuneo portare il nostro pane di patate porri. Abbiamo il porro di Cervera, abbiamo il nostro pane di patate di Garessio con una deco e non riusciamo mai a collimare. Era un pane che si faceva durante la guerra nelle nostre montagne, ha una storia molto antica. La gente è arrivata, anzi non essendo più tutta quella fiumana che c'era in via Roma, la gente più sparsa, si lavora per sé in meglio, abbiamo fatto lo stesso lavoro. Adesso noi su 16 anni abbiamo partecipato per 15, abbiamo già un po' di gente che ci conosce, da un anno o l'altro ci viene a cercare. Grazie a tutti.